Se ami le arancine e la pizza, da Riparti li trovi tutti i martedì, giovedì e sabato. Riparti lo trovi in via Giuseppe Licata, 49 a Sciacca. Ti aspettiamo. Avvocato Gaudio, cosa rischiano il cittadino e il titolare di attività commerciale che non rispettano le misure anti-Covid? Le sanzioni sono più che altro di carattere economico, sono sanzioni previste per tutta una serie di violazioni rispetto agli obblighi che sono imposti con decreto legge a partire dal gennaio di quest'anno, ma è stato convertito in legge il 12 marzo scorso e quindi siamo in una situazione diversa rispetto all'anno scorso quando invece venivano emesse una serie di DPCM che avevano una valenza, tra virgolette, diversa, anche inferiore al mio modo di vedere. Le sanzioni sono di carattere patrimoniale, è presa una sanzione amministrativa da 400 euro a 1000 euro, sanzione che può essere ridotta se il pagamento avviene entro 5 giorni a 280 euro, quindi è consentito il pagamento in misura ridotta, o se è pagato entro 60 giorni nei minimi di 400 euro. Per il negoziante è possibile anche la chiusura temporanea dell'attività. Ci sono dei casi nei quali si rischia anche una denuncia all'autorità giudiziaria? Sì, allora è chiaro che ci sono dei divieti e degli obblighi che vengono imposti con il provvedimento in esame, con la legge, adesso legge 12 marzo 2021 numero 29. È previsto ad esempio un divieto di mobilità per i soggetti sottoposti a quarantena. E qui bisogna fare una differenziazione tra quarantena obbligatoria di soggetto trovato positivo all'esame, quindi positivo al virus del Covid-19, e il divieto di mobilità per i soggetti che sono invece in quarantena cosiddetta precauzionale, cioè in quanto venuti a contatto con soggetti poi risultati positivi. Nel primo caso, quindi la quarantena diciamo obbligatoria, la violazione determina la comunicazione di notizia e reato. E il soggetto che viene trovato fuori dalla propria abitazione risponde sicuramente di una norma che sembra un po' diciamo vetusta perché si parla dell'articolo 260 del reggio degreto del 1934, che prevede in particolare il mancato rispetto delle misure di contenimento delle malattie. E prevede una pena dell'arresto da tre mesi a diciotto mesi e una ammenda da 500 a 5 mila euro. Questa è l'ipotesi più favorevole, perché nel momento in cui questo soggetto invece dovesse essere ritenuto responsabile di una norma del codice penale, l'articolo 452 e quindi in questo caso si parla di delitti contro la salute pubblica, potrebbe essere invece condannato alla reclusione da sei mesi a tre anni. Questo nel caso in cui dovesse essere accettate alcune violazioni particolari e quindi l'ipotesi di epidemia o di avvelenamento di sostanze alimentari. Faccio un'ipotesi, ad esempio in un mercato pubblico si mette a starnutire sui prodotti, ecco qualcosa del genere, essendo positivo. Quindi ripeto, la comunicazione di notizia di realtà avviene nel momento in cui un soggetto positivo posto in quarantena viola questo divieto di mobilità. Diverso è l'ipotesi invece nel caso di divieto di mobilità per quarantena volontaria e precauzionale, in questo caso la violazione determina quella sanzione di cui avevo detto da 400 euro a 1000 euro. Avendo esaminato tutta questa materia, a suo parere c'è qualcosa che effettivamente estride, anche sul piano degli obblighi che riguardano i commercianti o anche dei divieti con le distinzioni ad esempio quelli del settore alimentare? C'è una norma che mi lascia un po' perplesso. Praticamente noi sappiamo che parliamo di zona rossa perché oggi ai nostri concittadini interessa questo. Con la zona rossa praticamente c'è un limite nella ristorazione, quindi non si può assolutamente andare a mangiare al ristorante. La ristorazione è consentita soltanto a domicilio o per asporto. Per quanto riguarda i locali come pub, bar e questo tipo, è consentito l'asporto solo fino alle 18. e si tratta di una norma che sinceramente io comprendo a fatica perché c'è la differenza tra questi locali ed altri. Cioè se il pub o il bar è dotato, munito di cucina all'interno, allora l'asporto avviene come per tutti gli altri fino alle 22. Se così non è, anche se come è normale, noi conosciamo il servizio offerto dai nostri bar, dai nostri pub, hanno ad esempio panini già pronti o pizzette, questo non possono essere asportati. Quindi fino alle 18 l'asporto, dopodiché non possono fare niente. E mi chiedo perché può farlo la pizzeria, ad esempio, che naturalmente vende tavola calda e questo lo può fare fino alle 22, non lo può fare un bar. Ho pensato per evitare, essendo più numerosi i bar e i pub, la possibilità di una sorta di movida, ma non è possibile perché c'è il divieto di assembramento e il divieto di stazionamento che è ancora più riduttivo, ancora più limitante della capacità del cittadino di stare per strada. Quindi sinceramente c'è questo video, è giusto che i titolari di attività commerciali tipo bar o pub o simili sappiano che dopo le 18 non possono più, praticamente dovrebbero chiudere. Ma alcuni dei prodotti che loro preparano possono essere portati invece fuori dai titolari di altre attività? Di altre attività sì, praticamente per altre attività è consentito, ma per i bar no. Ed è una norma che mi lascia molto perplesso, però così è scritta, così sembra essere applicabile.